La decarbonizzazione della nostra attività parte da due concetti fondamentali. Il primo concetto è che noi lavoriamo in mare 365 giorni l'anno con le mani nel mare, quindi vediamo il cambiamento climatico che è nato, lo vediamo da anni e lo stiamo dicendo da anni, ovvero sia la temperatura del mare sale e sale sempre di più e sale molto velocemente. Abbiamo anche degli strumenti in mare che lo dicono e stiamo facendo numerose misurazioni molto pericolose. Il secondo motivo è che noi alleviamo molluschi, i molluschi costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio e il carbonato di calcio viene sottratto dal mare e il mare per un equilibrio dinamico sottrae e ripristina la concentrazione degli ioni carbonati sottraendo CO2 dall'atmosfera. Quindi noi siamo un sistema attivo di sequestro permanente della CO2, ovvero sia la CO2 che va a finire nei gusci delle nostre ostriche e dei nostri muscoli, fra qualche milione di anni andrà a costituire quelle che sono le dolomiti o le alpi appuane, cioè carbonato di calcio dovuto a dei depositi carbonatici di milioni e milioni di anni fa. E' un sistema che ha una valenza molto importante per noi, perché noi comunque facciamo impresa. Però vogliamo far valere la nostra attività anche andando a quantificare i crediti di carbonio. Abbiamo già fatto degli studi stechiometrici e abbiamo potuto valutare insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia che un quintale di mitili sottrae e sequestra in maniera definitiva 30 kg di CO2 equivalente. Un quintale di ostriche allevate ne sequestra 50 kg. A livello nazionale la mitilicoltura ogni anno abbiamo stimato che sequestra in maniera definitiva circa 19.000 tonnellate di CO2 equivalente. Sono numeri molto importanti e vorremmo che fossero riconosciuti anche dai ministeri. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Blue Carbon Sink, insieme a Denea, a AMAC e l'Associazione Mediterranea di Acquacoltori, che racchiude quasi il 95% degli allevatori di molluschi in Italia. e stiamo lavorando proprio in questo senso per comunque far capire che noi facciamo impresa ma vogliamo dare anche un contributo al nostro mondo, al nostro pianeta.